Ancora tensioni e storie di disagio sociale a Napoli, nella zona di Porta Nolana. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti per la segnalazione di una donna aggredita dalla figlia. I poliziotti, giunti immediatamente presso l'abitazione della vittima, hanno notato che aveva il volto tumefatto e poco distante hanno visto un'altra donna in evidente stato di alterazione psicofisica, con accanto una bottiglia di alcol semivuota. Quest'ultima, anche in presenza delle forze dell'ordine, ha prima minacciato e aggredito fisicamente la madre, come già avvenuto in precedenti occasioni, e successivamente anche gli agenti. Una 33enne originaria della Bielorussia è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza pubblico ufficiale.